Va ora in onda In famiglia, domande e risposte sulle dinamiche familiari Un programma di Francesca Baldini con Gigi Avanti Della consulta nazionale CEI per la pastorale della famiglia Una produzione Radio Più Quando l'intimità è sofferenza Può succedere che in una coppia in momento dell'intimità Magari ci sono tante cose che funzionano Ma l'intimità crea disagio, crea sofferenza Un tema delicatissimo Non lo è mai questo problema dell'intimità Penso che ci si riferisca alla sfera sessuale nel senso proprio fisico della parola Non lo è mai un problema a sé stante In genere è un po' la punta dell'iceberg che emerge dalle acque Che però sotto sotto è più grosso di quanto non venga rappresentato da questa punta emergente Solitamente, a parte magari episodi particolari oppure periodi particolari Solitamente l'intimità che diventa sofferenza Rivela una sofferenza del rapporto pregressa Oppure una capacità di comunicare le emozioni e i sentimenti Non adulta, non matura Questo dire e non dire Questo ho paura a dirgli perché non vorrei che si offenda Ecco, se questo è un modo di vivere il rapporto precedente Può finire poi anche nell'intimità a diventare un problema Però lo è nella misura in cui ci sono queste premesse qui Per i rapporti dislivellati Se per esempio una donna tende a fare da mamma al marito I primi tempi può andare bene E poi nell'intimità può diventare un problema Perché con la mamma il rapporto è incestuoso E allora magari senza che se ne accorgono Viene meno il desiderio da parte dell'uomo Ma la ragione profonda è questa Che sempre è stato trattato come un bambino da accudire Ce ne sono abbastanza di queste situazioni Abbastanza Allora il problema non è l'intimità che crea sofferenza È che il rapporto non è tra pari Adulto-adulto Io ti dico le mie necessità, i miei bisogni, i miei desideri anche Tu ascolti e vediamo di trovare un punto di contatto Se il contatto fisico non avviene È perché qualcosa prima è stato squilibrato La gran parte delle volte è proprio in questo senso qui Una donna dominante Oppure un verito violento Perché la sessualità Mai senza la tenerezza Quando non c'è tenerezza Si vive l'intimità con sofferenza Ma la violenza è precedente Cioè se l'uomo è erozo, materialone, brutale Per come parla, per come a un certo punto A letto non ci va i voletieri E allora te lo impone Peggio mi sento Certo Aggrava la situazione Ecco quindi è importante che il Ci sia equilibrio Che cresca un rapporto Noi chiamiamo adulto-adulto Un rapporto crescente-reciproco Cioè se io ti dico magari un mio bisogno E tu lo ascolti E rispondi con tenerezza Dici ci penserò Se invece io ti dico un bisogno Un desiderio E dall'altra parte sento il calpestio Diciamo vabbè ma che bisogno c'è? Non fanno più l'amore questi due questa sera qui Perché non c'è la tenerezza dell'ascolto di un bisogno Quale che sia Cioè mi piacerebbe ogni tanto Che mi regali un bacio di fiori Ah mamma mia A volte mi dimentico Ti chiedo È come se gliel'hai regalato rispondere così Se invece la risposta è Dai fiori ma con la crisi che c'è Vai a spendere soldi Qui è un non fare l'amore Col sentimento dell'altra O dell'altro Poi non lo fai a letto È evidente Bisogna capire anche però Allora se la persona è adulta Non dal punto di vista diciamo dell'età Ma psicologico Psicologico Emotivo Psicologico emotivo L'uomo di oggi Ci sono anche studi al riguardo Stenta a crescere Arriva a crescere Io dico verso i 35 anni Addirittura Sì sono un po' buono Perché qualcuno parla di adolescenzialità tardiva Come patologia dell'uomo moderno Io preferisco chiamarlo Adolescenzialità psichica Cioè non crescono mai L'adolescente La parola lo dice Sta uscendo un adulto E uscisse però Come mai? Non lo vuole lui? O c'è qualche cosa? Un po' non lo vorrà lui Ma un po' E anche l'ambiente esterno Che non dando Perché sia adulti Quando sia autonomi Un po' in tutto e per tutto Soprattutto è Saper badare a se stessi economicamente In questa cultura qui È difficilissimo E allora C'è chi ancora provvede Alla ragazza o ragazzo O per ragioni degli stufin Che studiano O fino a che non si sposano Questo crea delle abitudini Tari Che fanno comodo anche alla persona Raggiungere l'autonomia Ecco perché è importante Alla prima volta che i figli dicono Voglio andare a vivere da solo Aiutarlo di più che si può Senza dire Ma che ti manca? Bisogna cogliere il momento Che in genere sui 20, 22, 23 anni Grosso modo È reso difficile Dalla cultura di oggi Perché il lavoro non c'è Eccetera eccetera Però in quel senso Si penalizza anche La crescita dell'adulto Dopodiché magari Si innamorano E stanno ancora in casa E' tutto legato Tutto legato E' tutto legato Dalla cultura di oggi E' tocca Dalla cultura di oggi Grazie.